Discutere la legge regionale contro l'homo trans negatività, l'ordine del giorno oggi in assemblea. Davanti al palazzo di Via Aldomoro hanno manifestato i favorevoli e i contrari, gli esponenti del mondo LGBT e quelli del popolo della famiglia. Questi ultimi contano sull'appoggio dei fratelli d'Italia e della Lega. Noi siamo fortemente contro questo disegno di legge, questa legge che vuole discriminare al contrario. Io la chiamerei una legge per l'eteronegatività. La parte nostra è contrarietà a questo progetto che vuole essere più un'esaltazione di quella che è una minoranza chiassosa all'interno della nostra comunità piuttosto che servire in qualche modo nell'idea dei proponenti a volerla tutelare. Per arrivare all'approvazione la maggioranza ha fatto una scelta tecnica, cioè di rinviare il dibattito sulla proposta in commissione per sottoporla al voto dell'Aula nella seduta di fine luglio.